ciao a tutti ciao giada come stai bene bene mi fa piacere che facciamo oggi in questo breve video che facciamo video quiz bravissima allora questa è la parte superiore della torta di giada di quando ha compiuto cinque anni che era a tema principessa sì e tu hai rivestito la principessa allora noi vogliamo sapere il giorno e il mese di quando giada compie sei anni sì e che cosa facciamo a chi indovina diamo un premio sorpresa vero sì veramente ok allora aspettiamo che qualcuno qualcuno indovina e poi lo contattiamo ok in bocca al lupo scrivete qui sotto nei commenti il giorno e il mese in cui giada compierà sei anni è un grosso ciao saluta tutti giada ciao ragazzi ciao ciao